Due piantagioni di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri della compagnia di Rocella, incontrata a cola di Gioiosa Ionica e località Crimia a Martone. I militari l'hanno arrestato in flagranza per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Lorenzo Bruzzese di 46 anni, Rocco Sainato di 33 e Giovanni Schirripa di 49 anni. Una piantagione risultava composta da 1530 fusti di canapa indiana, l'altra da 600, sequestrati anche altri 90 kg di marijuana pronta allo spaccio. Sale così a 29 il numero delle piantagioni scoperte dai carabinieri del gruppo di Locri dall'inizio dell'estate. Illegita coltivazione di sostanza stupefacente con questa accusa, i carabinieri di Ioppolo hanno tratto in arresto due giovani, Antonino Maccarone di 28 anni di Ioppolo e Giuseppe Navarra di 24 anni di Rombiolo, sorpresi dai militari dell'arma incontrata a Siroto di Ioppolo in un'erede maniale nei pressi di un torrente mentre irrigavano circa 2.500 piante di marijuana. Avrebbe violentato una donna ospite come lui di un centro di protezione richiedenti asilo e rifugiati nel Catanzarese. Per questo i carabinieri della stazione di Marcellinara hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 40 anni su ordinanza del Tribunale di Catanzaro. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una donna di origine etiope, ospite dello Sprar di Miglierina, che ha raccontato di avere subito una violenza sessuale dall'uomo. Un fucile perfettamente funzionante. Il risultato rubato nel 2009 è stato rinvenuto dai carabinieri nel soffitto del vano ascensore di uno stabile di Viale Isonso a Catanzaro. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Catanzaro dopo una perquisizione. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile smontare il soffitto dell'ascensore scoprendo l'arma imballata. Il fucile sarà inviato ai ris di Messina per gli accertamenti del caso. Un incendio ha completamente distrutto il capannone di proprietà di un consigliere comunale di Cortale, Raffaele Cantafio, concesso in affitto alla società di trasporto autolinea Romano di Crotone. Il rogo ha avvolto un autobus di linee, rientrato poche ore prima dal normale servizio, e due autovetture d'epoca di proprietà dello stesso Cantafio, indagano i carabinieri.